Ha preso il via mercoledì mattina la presentazione delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza. Allertati dai numeri previsti, afferrare ai province uffici postali e centri CAF si sono fatti trovare pronti per sbrigare le pratiche nel minor tempo possibile. Nella maggior parte dei casi, come consigliato i giorni scorsi, le persone hanno iniziato a presentarsi in ordine alfabetico. Se si paragonano gli afflussi, è inevitabile notare come le poste abbiano registrato un numero inferiore di accessi, in quanto in questi uffici è indispensabile presentarsi con la domanda già compilata. Situazione diversa riguarda invece patronati e sindacati, dove il richiedente viene seguito passo passo, dalla compilazione dei moduli per l'ISE fino al completamento della domanda per ottenere la carta gialla, molto simile ad una comune post-pay. Secondo quanto emerso nelle prime ore dai centri CISL dislocati sul territorio, sono state circa 150 le persone che si sono presentate per avviare la procedura. Osservando i moduli ISE compilati dallo stesso sindacato nel 2019, si nota come siano quasi un migliaio le pratiche con indicatore inferiore ai 9.360 euro, numeri che potrebbero raddoppiare se dovessero ripresentarsi anche coloro che lo scorso anno rientravano in questa cifra. Gli organi istituzionali continuano a sottolineare come non ci si debba presentare tutti nei primi giorni, visto che c'è tempo fino alla fine del mese.